Allora, cari amici, ho creato una cosa nuova, la mia vena creativa si è risvegliata e ho creato una roba nuova. Perché ho creato questa roba nuova? O meglio, ho iniziato a creare, attenzione, cioè siamo partiti da un'idea, diventato un progetto, ho cercato, ho fatto, eccetera. Vi ricordate che, come vi dicevo, io ho tanto, tanti oggetti, tante cose, soprattutto anche di mie collezioni private, che è di attività vecchie, quindi mi sono portato tante cose di vecchie attività, ero un accumulatore di cose, ma ero anche un collezionista, insomma, un sacco di cose. Poi, tra l'altro, in Italia c'ho anche tantissime cose che, vabbè, adesso sono lì, ma prima o poi dovrò venderle, perché non ha senso. Senso, come vi dicevo, gli oggetti hanno un'anima, e tenerli buttati da qualche parte, rinchiusi, senza poterli dare vita, non è più nel mio stile. Cioè, mi rendo conto che quegli oggetti, con l'amore che hanno avuto quando li ho presi, perché collezione, perché per me erano importanti, per mille cose, oggi lasciarli dall'altra parte del mondo, rinchiusi, senza un minimo di attenzioni, di amore, di utilizzo, non va bene per loro, non è il rispetto di quell'oggetto stesso, cioè di quella vibrazione, di quel prodotto, di quello che sia. In più c'ho cose anche di altre attività, di cose vecchie. Non solo. Quindi, io ho tanto materiale, ma ci sono tanti di voi, attività che stanno chiudendo, persone, stock invenduti, chi ha dei negozi che non sa magari come andare, come dar via determinate cose, perché magari nella sua zona c'ha negozietti piccoli da qualche parte, e non sanno come fare le cose online, insomma, artisti che sanno creare delle cose ma non sanno vendere. Allora mi sono detto, ma perché non creare qualcosa di nuovo? Ora, creare qualcosa di nuovo è abbastanza difficile, perché bene o male c'è un po' di tutto, no? C'è da dire una cosa, però, io sono nato nel mondo online grazie a eBay e alle aste online, per cui sta cosa delle aste online, io ero un'idea che avevo sin da prima di eBay, solo che allora non avevo gli strumenti, né c'erano i soft turisti adatti. L'ho raccontato in uno dei flow, no? Non avevo l'idea di fare un sito di aste online, ma allora nessuno mi credette, perché credevano che tutti fossero una puttanata, e invece poi è arrivato eBay e ha comprato tutti i siti per milioni di euro. Vabbè, sono sempre arrivato troppo prima, io, rispetto alle idee. E quindi che succede? Visto che in questa mia nuova vita sta facendo un po' il riepilogo di tutte le vite precedenti, mi sono detto, ma una community di gente ce l'abbiamo. Degli artisti ce li abbiamo anche. Io ho anche tante cose di mie collezioni private, che sono anche, insomma, importanti. Perché non unire tutto questo per ridare vita a quegli oggetti, per dare il giusto rispetto a quelle cose lì, quindi a chiamarle cose mi dà un po' fastidio, però a quelle anime rinchiuse dentro quegli oggetti. Come possiamo fare per inglobare tutto? L'idea poteva essere, vabbè, facciamo un e-commerce, ma c'è già una era. Però una era può vendere determinate cose. Può vendere dei prodotti di persone, o dei prodotti singoli, o, che ne so, il mio rubino particolare della mia collezione privata. No, si può vendere su una era, perché c'è bisogno di tutta una serie di cose. Quindi serviva qualcosa di personale, serviva qualcosa che potesse essere inserito da tutti. Allora, ok, bello, si può provare a fare, si può fare, si possono fare dei test, però non voglio creare il mega sito con migliaia di prodotti, dove uno si deve andare a cercare tipo i beilas, che devi giocarli con le parole chiave, perché se non sei capace a mettere la scritta giusta, la parolina giusta, la gente non ti trova. No, una roba per noi, una roba di nicchia. Siamo quei 3-4 cemi, qualche migliaia ogni giorno. Siamo fanno i cazzi nostri, poi piano piano si aumenterà. Se la cosa vai, piace, attenzione. Quindi ho fatto un test, ho fatto un test. Sapete qual è la cosa che mi porta via più tempo di quando faccio queste cose? È che quando devo creare un progetto nuovo, devo trovargli un nome, perché nasce prima il nome, poi nasce tutto il resto. Se sono fatto così. Sapete quanto tempo ci ho messo per trovare il nome di Anaera? Credo, se non ricordo male, due mesi. Ma non potete immaginare quanto tempo per trovare il cazzo di nome. Quanti ne ho. C'ho da qualche parte ancora nel mio quaderno con tutta la lista di nomi. Ormai ho passato tantissimo tempo, più di tre anni. Ebbene, ebbene, Alla fine il nome è uscito. Il nome è uscito. E vi dico prima il nome e poi vi dico che cos'è. Cercavo di farlo davvero semplicissimo, ma in maniera... Poi vabbè, mi direte voi. Allora, il nome... E' nato prima lo slogan. Volevo cercare qualcosa con la parola affari. Ok? Ma non affari, cioè gli affari e l'affare... Lo slogan era dove gli affari sono di casa. Questo è da qui che è tutto partito, no? Dove gli affari sono di casa. Perché? Perché appunto prendo le robe da casa e lo trasformo in un affare per tutti. Nel senso che, per me, tenerlo buttato da una parte, poterlo far rivivere e magari ottenere anche una piccola quota è già un affare. Per l'altra persona che riesce ad acquistare un prezzo molto più basso del normale è un affare. E in più prendi le robe da casa. Quindi dove gli affari sono di casa c'era questa roba, questo doppio significato che mi piaceva. Stasera in questo flow vi parlo della nascita di un'idea, ok? Come nasce un progetto. Quindi era dove gli affari sono di casa. Però bisognava trovare un nome unico, bisognava trovare un nome che non esisteva come dominio online, bisognava trovare un nome che potesse essere riconoscibile, ricordabile, bisognava trovare un nome che fosse dolce, bello, che non fosse cacofonico. Insomma, è un casino trovare il nome, detto tra noi. Allora, dove gli affari sono di casa ho cominciato a cercare delle parole in altre lingue. e alla fine, ne ho viste tante, come al solito, Anaera nasce anche così, ricordatevi, Anaera vuol dire angeli in maori. Ho cercato, cominciato a cercare la parola affari nelle diverse lingue. Faceva a cagare, cioè, detto tra noi, me ne sono girato un botto di lingue, la parola affari, fa cagare, la maggior parte delle lingue. Speravo nel maori, niente. Insomma, ho cercato tutte le lingue, le speranto, tutte queste lingue un po' più fighe, Zero. A un certo punto, sapete, quando entra nel traduttore, c'è tutta, sai, tutta la lei A, B, C, ci sono tutte le lingue, Una delle ultime, se non l'ultima, è lo Zulu. O lo Zulu. Sapete, quando si dice, è proprio no Zulu. Cazzo, non lo posso dire, no? Questa è un'offesa. Aspettate, non posso di Zulu. YouTube, sto scherzando, non è che ho qualcosa contro i Zulu. Allora, sono anime, cioè, bravi, belli, il colore, li amiamo tutti, pure gli Zulu, ci hanno preso pure il nome, ok? Mi raccomando, YouTube, stai tranquillo, non è che sei proprio no Zulu. No, non sto ittigando a niente, mi raccomando. Allora, nella lingua Zulu, nella lingua Zulu, la parola affari, si dice idili. Che figa, idili. Idili è sonora, non è cacofonica, assomiglia un po' all'idillio, che nella nostra lingua è una cosa figa, c'è un idillio, no? Bella come parola. Allora, mi son detto, idili, bella. Allora, dovremmo creare un qualcosa che sia una sorta di personaggio, di assistente, che aiuti a trasformare la casa in affari e a far sì che noi tutti, in qualche modo, potessimo incrociare le nostre cose. Quindi, potessimo incrociare i nostri affari. chi ha qualcosa che non gli dà più quella energia che serve, la può mettere lì e gli altri che risuono con quella possono prendere. Ovviamente ha un prezzo, cioè, decente, perché deve essere un affare per tutti. Allora, ho detto, ma perché non creare questa assistente? Idili, idili è carino, potremmo chiamarlo idilio, però diventa troppo come idilio. Allora, facciamo finta che sia una donna, YouTube, donna, cioè nel senso che sia femminile, non voglio dire che è donna, io non c'ho niente con l'omini o con i fluidi, donna, uomo, uguale. però in questo caso un po' scemo davvero, però in questo caso volevo creare un nome che fosse un assistente che ti aiutasse in questi affari e quindi ho battezzato il nome Idilia che a me piace, a voi non lo so ancora, se non vi piace, sti cazzi, l'ho battezzato, quindi me lo sono andato a cercare e ho registrato il dominio idilia.net. Perché net? Perché noi siamo fondamentalmente un network, cioè un network è una rete, noi siamo una piccola rete, quindi idilia.net mi stava bene. Allora, cosa ho creato? Ho messo su questo sito, che ovviamente è in fase assolutamente sperimentale, quindi quest'altro, cioè, è un test, punto, lo sto a voi proprio perché siete voi, ma il concept di questo test secondo me può andare, ovvero non un sito di aste online dove ci sono miliardi di prodotti, no, molto semplice, molto molto semplice, se andate lì sopra già lo vedete, 12 aste a settimana, solo quelle, quelle che vedete in home page, non ci sono parole chiave, non ci sono ricerche da fare, quelle vedi, quelle sono, domenica scadono, chi ha fatto l'offerta migliore se la giudica, ci sono mi pare 6 euro di spedizione, o 6 o 7 euro non mi ricordo, ma vi appare quando mi pare 6 euro, quando fate il, quando poi chi se la giudica andrà a fare il pagamento, e avete 12 prodotti, adesso ho messo alcune delle mie, delle mie collezioni di pietre, ci sono delle cose uniche, che un po' mi rodo di dare via, infatti, mi da un po', beh, però, andate lì e dategli uno sguardo, quello che mi interessa è che mi diate, magari in questo video, mi diate dei commenti, magari per migliorarlo, o che cosa ne pensate? Ovviamente in questa prima fase di test ci sono soltanto dei prodotti che ho messo io, alcuni prodotti provenienti da alcune, da alcune altre persone, sono, c'è una, c'è un occhiale da sole, per esempio, che è da uno stock di un'ottica, c'è un orologio che è da un altro stock di un altro negozio, quindi, c'è già qualcosa, capite che l'obiettivo è poi aprirlo a tutti in maniera però selezionata, non entrano cani e por, ci buttiamo quello che vi pare, eccetera. Qual è la cosa figa? Che tutti i prodotti sono all'asta, quindi ci sono delle basi d'asta, magari, che ne so, alcuni partono a 10 euro, 20 euro, e c'è anche il compralo subito, un po' come ebay, per cui se non volete far l'asta, vi piace, lo volete al prezzo pieno, basta. Ma qual è la cosa figa, figa, ma veramente figa, che mi son ventato, e che io da sempre voglio dare la formazione a bassissimo costo, cazzo. Quindi, per me, questa è una cosa, questa è una cosa per me fondamentale, perché di quei 12 prodotti, ogni singola settimana, iniziano il lunedì, e finiscono la domenica, almeno questo concettualmente, ogni 12 prodotti, un prodotto di questi 12, ogni settimana, sarà un corso di anaera, che partirà da un euro, non importa quanto costa il corso, partirà sempre da un euro. Oggi c'è il mio corso di comunicazione non verbale, che costa 99 euro, parte da un euro. Domenica prossima, chi avrà fatto l'offerta più alta, se lo aggiudica. Punto. Fanno l'asta in tre persone a tre euro, sti cazzi, a tre euro c'è il corso, ed è giusto così. Questa è una cosa che a me premeva assolutamente, innanzitutto, perché così ci si può formare a molto più basso costo, voglio dire, ma quasi gratis. È ovvio che devi impiegarci un po' di tempo, devi andare lì, devi fare l'offerta, devi vedere se t'hanno superato, devi rifare l'offerta, insomma, le solite cose di un'asta. È un minimo di sbattimento, no? Cioè, io ci ho messo settimane, mesi per realizzare il corso, vedete che qualcuno non riesce a fare l'asta. Se non vuoi sbatterti di tempo, lo compri a prezzo pieno. Stessa cosa per i prodotti. I prodotti partono, non so, ci sono occhiali da sole di marca che invece di 135 euro partono da 15 euro, 20 euro, non mi ricordo quant'è. Quindi, se c'è una sola offerta e se la giudica 16 euro, a posto così, ti prendi un occhiale a 130 euro, a 16 euro. Questa è l'asta, ma sono solo 12, solo quelle lì. Domenica ci saranno i vincitori, faranno i loro pagamenti e se lì gli arriveranno a caso, ovviamente questi partono da Thailandia, quindi insomma ci vorrà un po' di tempo. Lunedì arriveranno le altre. Non solo, non solo, cosa interessante, i pagamenti possono essere fatti con Paypal e con criptovalute, ovviamente. Allo stato attuale potete pagare con Bitcoin, con Litecoin e con Dash. Dash non è il fustino quello per i cosi, per lavare i piatti, ma Dash è una criptovaluta, tra l'altro secondo me anche molto, molto promettente. Quindi, questa è l'idea che è nata in questa settimana. Voi, quando mi chiedete che cosa fai, Daniele, quando non fai i flow, questo? Creo, invento, faccio. Quando sono nel mio giusto stato dopaminico dove l'ambiente e le situazioni mi creano o io stesso mi creo questo stato, quindi c'è una congregazione di eventi, di situazioni, di persone che mi generano dopaminiche e riesco a creare e creo sta roba qui. Ora, non è difficile, è fatto in maniera molto semplice, andate su idilia.net, andate in alto a destra, c'è la cosa, tra l'altro se andate nelle schede vi manda direttamente sui link idilia.net e vi registrate e basta e potete guardarvi i vari oggetti e fare le vostre offerte. Potete comprarle subito se volete perché molti sono pezzi unici quindi se volete esattamente quella pietra e la volete sicuramente voi la comprate e basta al prezzo pieno. Ma, se no, partecipate all'asta cosa che io spero che facciate così iniziamo a vedere come funziona. Ovviamente, ragazzi, è una fase test cioè il sito è non in alfa di più cioè in beta è in fase beta quindi stiamo davvero testando potrebbero esserci ritardi con le mail però ditemi qualcosa quindi fatemi sapere voi come va anche mettendo il il i commenti a questo video così possiamo trovare meglio questo progetto. Questo potrebbe diventare un progettino abbastanza bello si potrebbe anche pensare a un co-founding in futuro perché mi piacerebbe fare cose un po' più fighe però vediamo oppure lo teniamo così minimale tra di noi e via registratevi ovviamente tutto gratuito cioè la registrazione tutto non è molto semplice come sito è veramente minimale e banale dobbiamo ancora strutturare bene il discorso però innanzitutto ve dovete registrare perché se no non potrete inserire i prodotti sto ovviamente adesso stiamo iniziando a testare non vi dicevo i test non è così semplice perché non è banale potervi far inserire delle cose da fuori all'interno di un sito insomma c'è tutto un delirio dietro bisogna acquistare poi ogni voi lo vedete così banale ma dietro ci sono cose acquistate ci sono investimenti fatti cioè anche se lo vedete così semplice dietro ci sono già tanto tempo e tanti soldi investiti dietro quel quel progettino là quindi infatti piccolo co-founding non ci sarebbe non sarebbe male ci fosse qualcuno che volesse investire non so perché che proprio investire bisogna vedere perché è una cosa più per le persone non è che ci siano grandi guadagni è una sorta di di sito di servizio il brutto del co-founding è che quando ci sono gli investitori vogliono guadagnare capito cioè la gente entra per guadagnare però se devi guadagnare cioè vorrei cercare di evitare al minimo queste cose vabbè vedremo insomma se no spicciamo per i cazzi nostri buonanotte allora di che cos'altro quindi oggi avete visto un po' come nasce un'idea come nasce un progetto e come viene messo su anche in maniera abbastanza veloce ripeto abbastanza veloce se già conosci perché se una persona da zero volesse mettere in piedi un sito come Idilia oggi che sembra una roba banale vi posso garantire che ci metterebbe credo se partisse da zero senza sapere nulla forse qualche anno per metterlo su nella stessa maniera un anno ce lo metterebbe tutto perché non saprebbe neanche dove partire per installare per creare un dominio per registrare un nome per mettere un server veloce per installare tutti i software che servono i plugin le cose eccetera eccetera e considerate che già questo sitino qui ha già un costo di insomma diversi i software dentro già hanno costi diverse centinaia su migliaia di euro quindi insomma non è proprio una robina che sembra una robina da niente ma già ci sono investimenti dietro solo per fare un test capite quando quando vi dico tempo e denaro però è ovvio che se volete iniziare a fare le cose come si deve dovete comprare cioè ci sono le cose gratuite ma le cose più fighe sono a pagamento quindi vanno comprati costano non costano tantissimo ma costano e poi dovete saperli muovere insomma vi ho fatto un po' di excursus marketing idee progetti dall'ideazione alla progettazione al passaggio alla realtà e poi una volta messo in piedi funzionante poi chiaramente si può entrare nei dettagli modificare renderlo sempre migliore aggiungere qualcosa vediamo già vediamo se va adesso vediamo come andranno le aste chi parteciperà quanto engagement ci sarà ovviamente fatelo conoscere magari siamo sempre a livello test ma mi interessa sapere che cosa c'è se l'esperienza è semplice se vi piace per questo lo facciamo oggi così poi domani ne parliamo non ve l'ho detto domani proprio per questo in più perché le aste finiscono domenica quindi avete già più tempo per poter testare fare aste entrare in gareggiata in questa gara di aste a chi offre di più le aste sono sempre sempre state una cosa molto interessante perché c'è uno studio sulle aste online che feci quando quando vendevo su ebay ed è molto interessante è molto interessante quello che sviluppa nella mente rispetto all'acquisto puro cioè l'acquisto è prendo compro pago ok ho fatto l'asta è diversa l'asta da dopamina e questa è la cosa bella cioè partecipare a un'asta e sapere di stare con più persone che vogliono lo stesso prodotto e poi magari uno solo perché tutti questi prodotti che vedete tra l'altro sono uno solo non è che domani ne riappare un altro forse per alcuni può darsi che ce ne sia qualche altro ma buona parte di questi oggetti proprio il 90% sono unici quindi quello è chi se la giudica se la giudica si aggiudica un pezzo unico per le pietre sicuramente sono pezzi unici per i prodotti fisici quello no per cui è una roba è una roba insomma sì poi qualcuno mi chiede la connessione non è sicura è vero nel senso che attenzione non vuol dire che non è sicuro non c'è il certificato HTTPS cioè ripeto essendo un test non è stata ancora messa un HTTPS anche perché il certificato costa torniamo sempre al suo discorso quindi per fare dei test visto che il certificato non è una roba che poi prendi e sposti a un altro sito volevo prima testarlo ecco perché vi dico voi siete i beta tester no per cui vediamo se l'idea piace se c'è se va si investono altri e si crea tutto il sistemino poi ripeto se qualcuno volesse oh se qualcuno volesse donare qui c'è sempre www.donazioni.me se qualcuno volesse fare donazioni che adesso potrebbero aiutare a velocizzare questo progetto ed acquistare tutto quello che serve ben venga grazie è una sorta di crowdfunding lo potete fare su donazioni.me Eliana dice vuoi dirmi che se nessuno offre più di 35 mi porta a casa gli smeraldi con 35 euro ma veramente funziona così esatto esatto Eliana si funziona così cioè si inizia con una base e poi in base a chi fa le io spero che qualcuno offrira di più è vero che conoscendolo solo noi è un rischio per me ma alla fine ve l'ho detto sono prodotti di mie collezioni private cioè ormai io stando in giro per il mondo mi vederli là morti dentro delle scatoline fa fastidio mi fa proprio fastidio per cui preferisco veramente praticamente regalarli a qualcuno che li farà rivivere piuttosto che starli buttati beh ma adesso si ovviamente qualcuno dirà ah perché si calore il tranello e tranelli cioè ragazzi c'è il corso a un euro se nessuno offre e offrono due euro solo becca a due euro considerate che quando pagando con paypal per esempio due euro non rimane niente perché si prende tutto paypal per esempio quindi il rischio è che le cose veramente vengano vendute a un prezzo ridicolo ma ripeto il sito nasce per questo questo è il concetto del sito devono essere affari per tutti sì le pietre le ho pagate molto di più è vero è assolutamente vero da una parte mi lo del culo darle via però dall'altra stanno lì inutili che me ne faccio quindi devo anche un liberarsi dal mio di attaccamento che ormai mi sono liberato è una mia passione è vero però che ce faccio cioè se non le uso non ci posso fare niente allora le do via poi vabbè lo stesso discorso si amplia poi ai prodotti delle altre persone agli stock di invenduti perché magari aziende chiudono e si trovano un sacco di prodotti in magazzino come successe anche con i mie e che non sanno che farsene e allora se abbiamo un giochino del genere possiamo dare un servizio a tutti questo nasce fondamentalmente come servizio agli altri cioè l'idea è di usarlo come servizio agli altri certo molto limitato perché se facciano soltanto 12 prodotti a settimana c'è ben poco da fare però se ti rodi attaccamento non mi rode attenzione attenzione non mi rode di lasciare andare l'oggetto mi rode economicamente di aver fatto cioè di averlo pagato di più di quello che potrebbe andare via quello sì perché è un errore se la devo vedere da un punto di vista economico è una perdita però cioè se ho comprato una cosa a 100 euro e oggi la metto sul sito a 20 e si vende a 30 ho capito io ho buttato 70 euro ok va bene ma fa parte del gioco cioè questo sì considerando che poi tra l'altro adesso probabilmente valgono anche molto di più però va bene cioè lo metto come lancio del sito lo uso come un concetto di investimento è come se io personalmente investo per lanciare quest'idea quello che vi dicevo prima quando avete un'idea c'è sempre un investimento da fare in tempo o in denaro o in tempo o in denaro e la gente dice sempre ah ma tu sì sei un bravo marketer quello che vuoi ok va bene ma questo nasce per offrire un servizio a tutti domani a gente che non è capace a fare queste cose da solo allora se riusciamo a creare una piattaforma per tutti o meglio insomma per tutti per chi avrà qualcosa interessante e abbiamo una community interessata che magari si espande con qualche mezzo che poi ci possiamo inventare se la cosa piace perché no perché non dare un servizio agli altri ovvio che all'inizio lo devo testare di cosa mia la cosa non andrà vabbè ci ho rimesso qualche migliaio d'euro e vabbè fa parte così il gioco quando la gente parla ah ma tu dici fai sì ma all'inizio ragazzi i progetti si mettono mani al portafoglio e si investe e sono così i test se no fai il dipendente buonanotte vedete cioè tra l'altro questo per me non è neanche un sito in rendita perché di rendita qui non c'è niente perché non sarà mai automatico qui bisognerà lavorarci sopra per cui già non mi piace come idea cioè non è una cosa a livello non nasce con l'obiettivo di creare una rendita nasce prima di tutto con l'obiettivo di poter ridare vita a degli oggetti che ho io e che hanno anche gli altri quindi questo sì questo ha un senso ma non ha un senso come rendita perché di rendita qui ce n'è veramente poca perché al massimo rientri in qualche spicciolo questo è ripeto questo creare creare un progetto nuovo ha bisogno di nuove conoscenze se non le hai quindi devi andarteli a cercare devi fare devo dire ma il concetto oggi i più attenti di voi avranno compreso che il concept della nascita di un'idea che sia un progetto web o che sia un progetto di soluzione di un problema mentale è lo stesso cioè il principio è sempre lo stesso partiamo da un punto A dove stiamo oggi c'è un punto B dove vogliamo arrivare quindi obiettivo ci sono delle delle cose che servono quindi abilità conoscenze software qualunque cosa software può essere software fisici come software mentali cioè rimane sempre questo punto A punto B cosa serve strategia per raggiungerlo ovvio che trovata la strategia bisogna trovare tutto ciò che manca per poter realizzare quella strategia quindi per un sito web ok questo è cosa mi serve un dominio un nome una grafica un template dei software che facciano questo dei software che facciano quest'altro è il certificato è la mail è il plugin che ti permetta di fare questo e se c'è questo problema devi risolverlo così ok fino ad arrivare al punto B bene nella mente non è così tanto diverso che problema c'ho? paura di non riuscire a posto oppure non essere in grado di fare una cosa da solo che ne so qualunque cosa punto A dove voglio arrivare essere sicuro di me stesso punto B di che cosa ho bisogno? e lì ti vai a fare la lista di quello che ti serve mi serve un mentore mi servono dei corsi mi serve questo mi serve quell'altro che quando hai capito cosa ti serve te la vai a cercare ora quando la vai a cercare non è detto che trovi subito la soluzione cioè tu cerchi amore incondizionato e te cominci a cercare tutti i vari i vari corsi vai a suonare e te cominci a cercare tutti i vari corsi amore di giù di giù e cominci a vederteli a uno a uno saranno alcuni saranno minchiate poi alcuni ti daranno una parola una frase una cosa che ti switcha un livello di pensiero ti fa cambiare il livello di pensiero io quando quando vedo i corsi io non amo tantissimo pure avendo tutti i corsi nella disposizione non è che chissà quanti ne guardo li guardo alcuni quando ho tempo e voglia molti corsi sono delle minchiate cioè attenzione per me perché le so per tanti altri possono essere illuminanti ma perché li ho già visti li ho già risentiti triti e ritri e poi avendo visto comunque tante cose in americano in italiano bene o male spesso e volentieri trovi delle rivisti e corretti però però io li vedo comunque perché perché anche se fossero corsi di cose che io so a volte il trainer di turno fa un collegamento dice una frase fa una riflessione che a me genera tutta un'altra serie di pensieri sinapsi logiche unioni mi fa unire dei puntini che mi porta ad andare oltre e creare nuove sinapsi quindi in realtà magari non mi ha detto niente di nuovo ma l'ha detto in un modo nuovo che potrebbe per associazione generarmi tutta una serie di altre cose ovvio che devo stare lì cioè devo stare attento perché se mentre guardo il corso ci atto su instagram metto le foto i gattini parlo con jonathan del nuovo flow una cosa e un'altra non capisco un cazzo e mi perdo magari proprio quella frase proprio quell'atteggiamento proprio quello sguardo quello che mi serve quindi io ho sempre detto il costo di un corso ha un senso a me basta che ci sia quell'informazione una un po' come nei libri stessa cosa nel libro tu te leggi l'intero libro magari l'informazione vera è una una due quelle valgono tutto il tempo tutto il costo tutto quello che hai fatto per ottenere quell'informazione perché perché quell'informazione crea una nuova sinapsi nella tua testa cioè clicchi qua e crei un nuovo livello di pensiero creando un nuovo livello di pensiero puoi trovare nuove soluzioni a problemi vecchi generati dal livello precedente la società fa in modo tale che il pensiero non evolva cioè che tu stia sempre sullo stesso livello di pensiero infilandoti tutta una serie di minchiate nella testa che non ti fanno avere questo livello di pensiero se tu guardi amici o guardi il grande fratello che cazzo di evoluzione puoi avere a livello di pensiero quale quale frase magica ti potrà mai dire che ti fa unire un puntino che ti crea una nuova sinapsi quello del grande fratello cioè e può capitare ma è altamente improbabile è altamente improbabile di quanto invece può essere probabile se vedi magari un corso o qualcosa del genere però c'è gente che sta lì a guardare amici per giorni e anni e se poi si deve guardare un corso da tre ore o un mio video da un'ora e mezza mi dice scusa ma qual è quella domanda lì ha e che minuto esatto infatti adesso una cosa che non metteremo più infatti ho detto basta perché per noi è una perdita di tempo è obiettivamente inutile non metteremo più il minutaggio sulle domande del flow cioè te le vuoi vedere e cazzo guardatelo non te puoi vedere manco un'ora del flow vaffanculo che vuoi esattamente la domandina precisa specifica aspetta che la tagliamo e te la troverai online prima o poi quindi l'impegno che è una cosa che ho sempre detto nelle persone l'impegno dove va l'impegno di una persona quello mostra la direzione vuoi veramente qualcosa ti impegni sapete quante ore ci ho messo per creare edilie per rendervelo disponibile adesso questa sera ci ho messo da giovedì scorso a oggi cioè un'intera settimana credete che sia facile non è facile perché ci sono mille problemi oggi non mandava la mail adesso avete visto a visite registrati vi è arrivata la mail subito questo problema è stato risolto adesso dieci minuti fa dopo che ci sbattevo la testa da due giorni perché mandavi la mail mandavi la registrazione e ti arrivava dopo quattro ore non ho capito perché non so per quale motivo per arrivare a una cazzo di soluzione sono impazzito cioè altro che livello di pensiero per questo vi faccio questo ragionamento io amo la tecnologia perché per me è un continuo svilupparsi del livello di pensiero cioè quando devo risolvere un problema tecnologico per me è come se dovessi risolvere un problema mentale qual è la differenza che nella tecnologia è più difficile della testa voi mi direte perché la tecnologia perché mentre nella testa di una persona a parità di schema il risultato sarà sempre uguale perché è un programmino che funziona sempre uguale nell'informatico nell'elettronica non è così a parità di azione il risultato può essere completamente diverso che è una cosa che non ho mai capito che mi faceva impazzire quando montavo computer o quando facevo siti ma questa è la stessa cosa cioè io faccio dieci siti uguali funzionano nove questo non va stessa cosa stesso server stesse robe non è cambiato una mazza questo non va cambi plug-in sapete quanti software ho dovuto cambiare per farvi arrivare quella benedetta mail subito come vi sta accadendo adesso che vuoti che fa quelli sono i test test che non ci capisci con la test perché arrivi oggi se qualcuno mi dice Daniel c'ho sto problema ti dico si fa così in un attimo però per dirti si fa così in un attimo ci ho messo tre giorni investimenti tempo denaro e questa è la grossa differenza è questo quello che a volte si paga è questo che la gente non capisce questo è quello che non si comprende questi sono i livelli di pensiero questi sono gli switch la stessa cosa accade con la testa quando fai test con la tua testa ecco perché ti dico testa tecniche nuove hai imparato una tecnica di pnl hai imparato una cosa nuova vai crea delle varianti che ti frega è così che si evolve anzi stimolo sempre a creare varianti trovate quella che funziona per voi per voi non dovete usare quella che stanno nei libri o quella che vi dice Daniele Pen quello che vi dico io è quello che funziona per me ma quello che funziona per me non è manco quello che sta sui libri è quello che ho ottenuto dopo mille test adesso sto facendo altri test ancora su tutte le mie nuove conoscenze su di me e mi rendo conto che ogni giorno ci sono cose nuove che faccio molte cose le faccio in automatico le osservo altre le devo indurre in qualche modo per cui questo è quello che spero vi sia passato e che non sia stato perché sono sicuro che dalle chat che ho visto qualcuno ha pensato ah stai a fare marketing per vendere sito non avete capito un cazzo chi pensa così appunto sta pensando nel livello del pensiero italiano del furbo e non comprende quello che c'è dietro è il concept il concetto che c'è dietro la logica la strategia come in piccolo così in grande la stessa strategia che applico per creare un progetto del genere è la stessa strategia che posso applicare per aiutare una persona o per una persona può applicare da sola per aiutarsi se stessa sempre detto vuoi veramente qualcosa vuoi davvero o no che lo dici che vuoi qualcosa lo vuoi davvero punto B dove stai adesso punto A che cazzo non la devi fare per arrivare dal punto A al punto B strategia mentori quello che serve vedi cerca fai dici test tutto quello che serve ti cresce metta strategia e la fai se non la fai vuol dire che questo qui l'obiettivo non è valido è solo una cazzata è una chiacchiera è una cosa che ti racconti perché se la strategia non è verso questo ma è verso tutt'altro questo è quello che racconti come maschera e questo è quello che realmente vuoi raggiungere perché qua ti impegni al solito discorso no? cioè se io dico che voglio diventare libero finanziariamente nel più breve tempo possibile e poi domani invece di sta a sbattermi al computer per organizzare il mio progetto che mi sono preparato vado a farmi gli spritz capisco bene che questo progetto di libertà finanziaria è molto meno potente dentro di te che quello di andarti a fare lo spritz con gli amici ok? quindi vi ricorderò a oltranza ve lo ripeterò miliardi di volte sono le azioni che definiscono le direzioni sono le azioni non le chiacchiere quindi notate che cosa come impiegate la vostra testa ogni giorno lì capite dove volete veramente andare poi se volete raccontarvi la dissonanza cognitiva che volete diventare liberi finanziariamente volete liberarvi da tutti questi schemi volete liberarvi dal possesso volete l'amore incondizionato volete di su volete di giù e poi scoprite che è la prima cosa vi scatta tutto il resto stiamo a giocare cioè smettete di raccontarvi e via c'era un video del demotivatore in cui parlavo di questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti